Musica Quanto sono state importanti per me le mie radici? Moltissimo! Io sono nata a Torino 58 anni fa e durante l'estate i miei genitori mi portavano a trascorrere le vacanze estive in un paese di montagna, nelle valli di Lanzo, che si chiamava Osseglie, un piccolo paesino sperduto nelle montagne e tuttora frequentato da pochissime persone. Era bellissimo perché essendo nata a Torino la libertà era difficile per un bambino e invece Osseglie rappresentava la libertà assoluta. Potevo uscire di casa, potevo andare in bicicletta e poi crescendo la nostra generazione, appunto sono del 1959, insomma i discorsi erano molti, si socializzava stando insieme. E quindi poi noi eravamo una generazione che voleva cambiare il mondo, avevamo la presunzione di voler cambiare il mondo. Beh, e che cosa facevamo in questo paesino? Ci trovavamo soprattutto in un bosco, in un posto particolare in un bosco, dove c'erano questi alberi immensi e io ricordo queste radici che di anno in anno sprofondavano sempre di più e questi alberi diventavano sempre più grandi, con queste fronde che andavano a cercare verso l'alto la luce. Allora cosa ricordo della mia infanzia? Questo tempo, il tempo dedicato agli amici, agli amici veri, quelli che poi rimangono per sempre, il resto sono conoscenti, ma qui invece c'è quella parte di noi, quella parte che ci appartiene, le radici. Quelli sono gli amici veri, quelli che poi ci aiuteranno tutta la vita nel percorso e ci saranno sempre. Ma poi c'era un'altra cosa che io ricordo di quell'infanzia ed era il colore del cielo, azzurro. Beh, insomma, la mia vita mi ha portato a viaggiare molto, soprattutto per lavoro. Quindi ho visto albe dappertutto, in molte parti del mondo, ma l'azzurro che io vedevo a un segno l'ho visto solo lì. E perché certo, prima c'era la colazione e la mia mamma mi preparava all'epoca, si mangiava il latte col pane, col pane di montagna, con l'acqua buona, fatto col forno a legna. Erano cose semplici, molto semplici. Mio padre era un sopravvissuto a un campo di concentramento, quindi c'era un'attenzione al dettaglio, alle piccole cose. Quanto tutto questo mi è servito poi per creare, per avere le esperienze che poi mi hanno condotto a diventare la persona che sono. Io, beh, da bambina volevo fare la maestra, su questo non c'era dubbio. E a un certo punto della mia vita l'ho pure fatto. Credo tuttora che alcune volte mi ritrovo a farlo o ad avere la sensazione di farlo anche in fabbrica. Ma non solo in fabbrica, anche nella fondazione dei musei di Venezia, dove ho l'onore di essere, di prestare servizio. E allora perché maestra? Beh, perché c'è questa voglia di insegnare e di stare a contatto con i bambini, col futuro. Allora, le radici e il nostro futuro. Ma le radici al futuro, bel titolo, estremamente impegnativo, perché noi siamo il frutto delle nostre esperienze. Allora, io sono una maratoneta, corro da sempre, surfista per scelta, dunque maratoneta per scelta e surfista per necessità, perché nel 1998 i miei figli mi hanno detto noi vogliamo fare surf, io ho sei figli e quindi o andavo a fare surf o loro non avrebbero mai fatto surf. Ma tutta questa esperienza che anno dopo anno hanno creato il tronco, hanno costruito il tronco della mia persona. Quanto è stato importante? Quanto è stato importante lo sport, l'adattabilità, la resilienza che ho imparato giorno dopo giorno a costruire dentro di me? Se mi chiedete qual è la più bella maratona che io ho fatto, non vi racconto certamente quella che ci ho messo a minor tempo, ma la più faticosa, quella più difficile, quella dove una sciatalgia mi ha purtroppo quasi fermato e sono arrivata alla fine trascinando la gamba, ma volevo arrivare all'obiettivo, dovevo arrivare all'obiettivo, non potevo fermarmi. Ma con la stessa logica, la capacità di adattamento, la capacità di poter comprendere come possiamo riscrivere la storia, perché vedete, io a 58 anni il futuro forse lo posso immaginare, i giovani lo vedono. Allora le nostre tradizioni, e io parlo, io rappresento un'azienda che ha 250 anni, che è del 1770, e quindi come poter pensare di traghettare questa fabbrica verso il futuro? È semplicissimo, creando all'interno della fabbrica un museo, un museo che potesse in qualche modo raccontare le nostre origini, perché la fabbrica non può stare senza la cultura e la cultura non può stare senza la fabbrica. Guardate dove siamo, no? Che dimora, che dimora maestosa. Pensate riscrivere il futuro anche dei musei. E come? Beh, immaginandoli dei salotti veneziani aperti, dove per esempio poterci lavorare. E infatti abbiamo creato degli spazi di co-working. Quindi vedere le stesse cose, ma con un'angolazione diversa. Portare tutto quello che è la nostra esperienza all'interno delle nostre attività lavorative o personali. Ma cos'è il futuro? Beh, la grande rivoluzione è di assumere le donne. Non può esistere un futuro se noi non assumiamo le donne. Se non portiamo nelle aziende e nei gruppi di lavoro le donne. Le donne, perché bisogna creare dei team misti, bisogna creare dei gruppi di lavoro dove le donne, che non sono migliori degli uomini ma sono solo diverse, possano dire quello che pensano. Vedete, la strada è lunga, perché quando si parla di futuro possiamo immaginare qualsiasi cosa. ma io sono convinta che il futuro, il futuro è oggi. È quello che noi stiamo facendo oggi. È il nostro impegno quotidiano per un futuro migliore per i nostri figli e per quanto mi riguarda per i nostri nipoti. Perché non possiamo pensare di essere scollegati da una realtà. Di essere scollegati da una realtà che ci sta chiedendo sempre di più di essere sostenibili, di avere l'opportunità di poter esserci e fare ogni giorno la nostra parte. Perché non è che lo debbano solo fare gli imprenditori, non è che lo debbano solo fare gli operai, tutti siamo chiamati a farlo. Vedete, c'è... stavo proprio pensando a Pinocchio. Perché Pinocchio? Beh, perché era una canzone che i miei genitori mi cantavano sempre da piccoli. Carissimo Pinocchio. E quindi per me è sempre stato un mantra la figura di Pinocchio. Figura fortissima. Perché immaginate, il maestro Geppetto era stanco, era stufo della sua vita. E a un certo punto vede questo tronco. Per lui non era un tronco. Per tutti gli altri era un pezzo di legno da buttare via. Per lui non era un tronco. Aveva visto un bambino. Aveva visto il futuro. E certo, gli è costato molto fatica. Perché Pinocchio l'ha fatto impazzire. Ma tutti noi siamo Pinocchio. Per il semplice motivo che tutti noi nella nostra vita abbiamo trovato un grillo parlante. Un gatto che ci ha tradito. E magari anche una fata turchina. Perché, vedete, Mastro Geppetto, nel riuscire a comprendere la forza in quel pezzo di legno ha fatto una grandissima rivoluzione. E quello che è importante è che se tutti noi siamo stati Pinocchio, e parlo di quelli della mia generazione, adesso dobbiamo restituire e dobbiamo diventare tutti dei Mastro Geppetto. e dobbiamo avere il coraggio di avvicinarsi ai giovani, farli entrare nei nostri gruppi di lavoro, che siano aziende, che siano fondazioni, ed avere il coraggio di aprire le porte. Perché se vogliamo fare un cambiamento, e lo dobbiamo fare, perché io ci voglio essere in questa parte meravigliosa, in questo momento storico, perché noi in questo momento siamo esattamente in un meraviglioso rinascimento italiano. La dobbiamo riscrivere questa storia, ma la dobbiamo riscrivere tutti insieme. E allora io non ho paura dei giovani, e i giovani non devono avere paura delle persone con i capelli bianchi come me, perché è solo insieme possiamo parlare di futuro. Radici al futuro. Grazie. Grazie.